Benvenuto nella sua nuova timora Grazie professor Birkin Birkmeier Birkmeier Mi scusi professor Birkmeier Dato che non ho ancora fatto colazione Cosa consiste la dieta qui? Niente 20 giorni di ticciuno assoluto Niente mangiare Niente per Ma come? Niente mangiare? Scusi professor Birkmeier Ma allora il cessetto lì? A cosa serve?